secondo appuntamento di 3 conti vengo a cercare reportage di che ci faccio qui il programma che vede domenico iannacone muoversi in piccole realtà del nostro territorio in onda onda oggi 6 giugno 2024 a partire dalle 21.20 su rai 3 continua il viaggio attraverso la regione calabria che offre uno sguardo profondo e umano su alcune realtà generalmente invisibili della regione la nuova serie di che ci faccio qui è articolata in tre puntate trasmesse nel corso di altrettante prime serate tv che ci faccio qui le anticipazioni del 6 giugno secondo appuntamento stagionale con domenico iannacone e il suo che ci faccio qui continua il reportage dal titolo ti vengo a cercare che vede il giornalista accompagnato da bartolo mercuri un piccolo commerciante di mobili della piana di gioia tauro muoversi lungo la calabria alla ricerca di storie e vite dei migranti colpiti da disagio abitativo e ingiustizia sociale iannacone con garbo e sensibilità intreccia storie che svelano mondi inattesi offrendo una prospettiva che ribalta le percezioni comuni la puntata ci conduce a mammola rc ai piedi della spromonte dove si trova un luogo magico fuori dal tempo e dallo spazio il musaba che sorge sui ruderi di un vecchio monastero si tratta di un museo laboratorio d'arte contemporanea fondato alla fine degli anni 60 dall'artista visionario nix patari scomparso nel 2020 e dalla sua compagna ische maas ancora attiva per tenere vivo questo luogo l'interno si trova il sogno di giacobbe un'opera spesso definita la cappella sistina della calabria mentre la visita al musaba ci riporta a un passato ricco di storia e arte iannacone ci proietta anche verso il futuro insieme a gianluigi greco professore universitario di informatica o l'unical di cosenza nonché uno dei principali esperti mondiali di intelligenza artificiale grazie alla sua influenza molti dei suoi studenti trovano lavoro presso una multinazionale giapponese che ha stabilito in calabria uno dei tre poli globali dell'IA ideato e condotto da domenico iannacone che ci faccio qui è un programma in onda su rai 3 dal 2019 che racconta aree del nostro territorio caratterizzate da forti contrasti e da sfide quotidiane intense storie di vita di persone coraggiose e combattive che con determinazione hanno realizzato propri progetti in nome della comunità dell'aiuto e del rispetto donato al prossimo